Kia ha ricevuto 6.000 preordini della nuova Ray, una Kikara elettrica con 200 km di autonomia e ricarica in 40 minuti. Hyundai invece lavora qualcosa di più grande. Ecco infatti Casper, pronta a distruggere la nuova Panda elettrica. Fiat, secondo molte voci, non sembrerebbe essere messa al meglio. Stanno per arrivare due settimane di cassa integrazione in più, per apparente mancanza di vendita delle auto elettriche, ma non sappiamo effettivamente il perché. Tesla forse sta per consegnare ufficialmente i nuovi Cybertruck in allestimento Performance. E mentre Mercedes ha dei problemi con il test dell'alce, io vi invito ogni domenica alle 10 sul mio canale YouTube per le news elettriche della settimana. E veramente ragazzi ne troverete delle belle, anzi delle bellissime. Quindi seguiteci qui da qualche parte su TikTok, ma anche su YouTube. Ciao!